E finalmente raggiungemmo l'estero e infatti ci troviamo a Città del Vaticano, a Via della Conciliazione. Quella che vedete alle mie spalle è la più famosa piazza del mondo, ovvero Piazza San Pietro. Quanti papi, quante elezioni di papi, quanti angelus abbiamo seguito a livello mediatico ma anche stando in questa piazza. Noi oggi andremo alla Domus Ecclesiae, non proprio vicino a Città del Vaticano, ma intanto ci siamo voluti immergere in questa realtà barocca, architettonica ed urbanistica che risale a tanti secoli fa e a questa straordinaria piazza dove in questo momento a Santa Marta alberga Papa Francesco. Io sono la via, la verità e la gustata. Ho ricevuto il dono più importante che ho, che è la fede, mi è stato trasmesso da Monsignor Guido Sangvirite a cui personalmente ho dedicato questo progetto, che era mio zio. Mi ha battezzato, mi ha dato la comunione, mi ha trasmesso la fede praticata quotidianamente. Volevo dedicare una mostra con il senso dell'eternità a questo giubileo. Non era semplice, non è stato semplice. E lo special guest, l'ospite d'onore della manifestazione e della mostra che si terrà da oggi, che siamo al 12 novembre fino al 18 dicembre, presso la Basilica dei Quattro Santi Coronati in Roma, è Alexander Canieschi. Ovviamente, visto che Gianmarco Pontelli, che è un po' il mio faro illuminante, il mio cicerone dell'arte figurativa, mi ha presentato tutti quanti visivamente e fisicamente i suoi espositori, non poteva che non presentarmi il nostro amico, amico anche dai nostri più assidui telespettatori, Alexander Canieschi. Certamente. Alexander Canieschi è l'artista che è stato selezionato fra gli staglieri per far parte dell'eternità nell'arte. Un artista straordinario, ospite a Palazzo Ferraioli nel caso dell'Election Day, ospite in tante altre situazioni, è stato ospite all'atrenale di Vittorio Sgarbi, che abbiamo ritrovato lì all'Election Day. E in questo caso, per l'eternità nell'arte, ha portato due pinti straordinari che sono all'ingresso della Basilica dei Santi Quattro Coronati, con un catalogo dell'editoriale Giorgio Mondadori, con il logo ufficiale del Giubileo. Quindi per noi è un piacere portare i dipinti di Alexander perché nei dipinti di Alexander si vede quello studio, quella narrazione, quella forza a favore della spiritualità diffusa. Lui è lì con Judas, è lì con David, quindi due momenti di forza e anche di dramma all'interno della cristianità. Oggi, Sor Fulvia, la madre superiore delle monache agostiniane di clausura del monastero, ha parlato di Dio che entra nelle nostre coscienze, di Dio che tocca i nostri cuori e di un'eternità che si trova attraverso la preghiera. Alexander Kanievski, quando fa i suoi dipinti, entra nelle profondità delle coscienze e attraverso questa profondità delle coscienze riesce a far passare dei messaggi e delle narrazioni straordinarie. L'abbiamo commentato con Vittorio Sgarbi a Palazzo Ferraioli, martedì scorso, quindi l'otto. Il dodici è stato straordinario appunto nella Basilica dei Santiquattro, con il logo ufficiale del Giubileo. Alexander Kanievski è uno dei protagonisti assoluti del catalogo Mondadori sull'eternità nell'arte e la sua tavola è anche una tavola veramente all'inizio del catalogo dell'arte moderna generale dell'editoriale Giorgio Mondadori. Quindi qualcosa di veramente straordinario, di forte per un grande maestro contemporaneo a livello mondiale. Bene, la chiosa e soprattutto la critica alla recensione visiva di Gianmarco Puntelli rende omaggio a questo grande artista che abbiamo conosciuto proprio con l'opera che verrà regalata, donata dalle sue vive mani a Papa Francesco, proprio all'interno della Basilica dei Quattro Santi Coronati. Kanievski, che cos'è quest'opera e chi la figura e rappresenta? E innanzitutto grazie per essere ancora con noi. Assolutamente, questa è l'opera che ho fatto nell'anno 2009, si chiama Meditazione del Cristo. La figura mascolina si rappresenta, il Cristo sicuramente, figure più oscuri, oblichi, figure facili dei prodotti delle sue meditazioni, perché nella sua meditazione, lui si è adatto nel facoltetto del sapienza a priorità, nel cui, nel cui, indietro di cui, si sta la nostra ultima attiva connessione con Dio. Ho conosciuto questa necessità, ho sentito questa necessità e nella sua meditazione ho fatto una connessione immutabile con Dio, cioè lui ha dato grande, grande potere, grande forza sopraumana. Come realmente è e quindi penso che l'arte figurativa, quello che rappresenta, arrivi d'impatto al Pontefice, al Santo Padre, che riceverà, credo, spero per lei di conoscerlo, che lo conosca dalle sue vive mani questa opera d'arte. Le volevo chiedere una cosa, quello che mi colpisce, oltre ai suoi quadri particolari, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo sentito parlare da lei, dal professor Pontelli a Firenze e anche qui a Roma, mi colpisce il suo look. L'altra volta era vestito di viola, poi aveva un rosa pastello meraviglioso, ora un grigio perle invidioso. Chi è lo stilista di Alexander Kjanievski? Chi la veste? Grazie. Lei stesso si veste. Sì, 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 la veste nel... come si dice? Questo è un grigio, questo è un sarto, un grigio perle. Un sarto, sì. Piace il colore. Ogni giorni alla mattina mi stesso sento nel calore diversi, per mia ispirazione, per l'ispirazione della mia psichica. Oggi è, come si dice, grigio. È un grigio perla straordinaria, guardi, colpisce gli occhi. Domani potrebbe essere tutto rosso. O magari ciano, chi lo sa. Ma non ci hanno, sì, sì, ma perché no? Allora, guardate bene quest'opera perché verrà donata dalle sue stesse mani al Pontefice, al Santo Padre, prossimamente, visto e considerato che noi ci troviamo in questa basilica, che è anche una delle domus ecclesie di Roma. Grazie ad Alexander Kjanievski che in questa mostra dedicata all'eternità nell'arte è un po' l'ospite d'onore, lo special guest, come si suol dire. Noi lo mettiamo a dura prova perché lui sa parlare bene l'italiano, ma ovviamente vivendo negli States parla bene l'inglese. Ora però una domanda, consentitemi, e che esula da tutto ciò gliela devo fare. Lei era per Hillary Clinton o per Donald Trump? Donald Trump. Donald Trump e i vincenti si vedono sempre. Alexander Kjanievski. Grazie. Grazie. Grazie.